ciao a tutti siostoc oggi vorrei parlare dell'immigrazione che fine ha fatto l'immigrazione mi chiedevo ieri mi chiedo oggi come molti di voi si chiederanno tra l'altro e vorrei partire da alcuni video di m1 televisione pubblica ungherese e alcuni ospiti illustri come Bokondi Gjörg come Georg Spötle per spiegare la situazione per un'opinione non molto ascoltata in Italia un punto di vista nuovo per molti italiani e vorrei appunto partire da questo primo video che parla della immigrazione illegale in Europa con ospite Bokondi Gjörg consigliere per la sicurezza interna per il governo ungherese un grande passato nel mondo della sicurezza delle forze dell'ordine l'immigrazione al tempo dell'emergenza sanitaria sembra di fatto sparita nessuno ne parla più eppure i centri per migranti possono potrebbero diventare dei focolai molto pericolosi anche per gli europei ecco perché la transit zone ungherese al confine con la Serbia è stata sigillata ben due mesi fa circa quindi per prima con tutto il caos europeo con l'Europa che si è scagliata contro l'Ungheria per l'ennesima volta per il razzismo quasi tutti in Unione Europea hanno rafforzato i controlli alle proprie frontiere tradendo la linea che vuole in una sorta del mal comune mezzo gaudio immigrati ovunque quella della redistribuzione automatica obbligatoria dei richiedenti asilo il Consiglio d'Europa che ricordiamolo non ha nulla a che fare con l'Unione Europea vorrebbe che i paesi UE permettessero immediatamente la libera uscita dai centri d'accoglienza per migranti di questi ultimi perché questi centri sono di fatto pericolosi per la salute degli stessi migranti degli ospiti la Svezia ad esempio non riesce a fare i rimpatri per la chiusura di vari aeroporti non solo in Svezia ma anche in Africa e Medio Oriente lascia liberi gli illegali di girare non solo per le strade svedesi ma dunque per lo spazio Schengen per l'intera Europa. Adesso vorrei parlare di ciò che ha detto in un altro video intervista Georg Spötle che è un importante esperto sempre in politica della sicurezza di origine tedesca che quindi ha una posizione una preparazione maggiore per quanto riguarda la Germania e la situazione in Germania dell'immigrazione. Appunto nel paese teutonico nei centri alcuni hanno violato la quarantena e hanno aggredito medici e poliziotti e quindi tutte le autorità corse per dare loro aiuto per aiutarli. È dovuta intervenire addirittura l'antiterrorismo. I verdi e i liberali propongono di portare in Germania i clandestini dalle isole greche a confine con la Turchia con le crociere addirittura quelle di lusso. Si avvicina il Ramadan quindi il periodo di digiuno musulmano e di notte sarà difficile da ottenere dagli immigrati di origine musulmana il rispetto dell'auto isolamento anticontagio soprattutto nei paesi a più alta concentrazione di immigrati musulmani nel nord Europa. A Roma e vediamo qui ho il link del fatto quotidiano un edificio c'è un edificio con 800 occupanti immigrati in quarantena per casi positivi. Appunto diventa zona rossa due contagi due coniugi sudanesi positivi e quindi se ne parla anche in Ungheria di questo. In Germania le varie organizzazioni immigrazioniste hanno manifestato con migliaia di partecipanti per le strade contro la chiusura europea agli immigrati illegali o legali che siano, molte di queste legate a Soros come Antifa che ormai tutti conoscono veramente tutti. Vorrei adesso parlare delle ultime notizie con boh con diger sempre. La Turchia sarebbe pronta a ricominciare a rispedire verso la Grecia clandestini in maggioranza afghani, pakistani e iraniani e da Malta arriva la notizia che 650.000 persone sarebbero pronte a partire dai porti della Libia, dalle coste libiche verso l'Italia e verso Malta. Alan Kurdi, dell'ONG tedesca soroshiana che ha legami e supporto da Soros la CIAI, la solita pressione ideologica per riaprire la grande rotta italiana del Mediterraneo centrale. Bocondi parla di come le ONG raccontino di centinaia di morti dispersi nel Mediterraneo perché avvistano barconi vuoti, ma la realtà è che si tratta di barconi svuotati dalla marina libica, quindi di clandestini riportati in Libia, questo moltissime volte, oppure di barconi lasciati andare da soli con le onde già partiti vuoti dalla Libia. Se ci pensate, le ONG oggi vogliono approdare in Italia, in porti italiani non sicuri perché c'è l'epidemia, quando hanno sempre rifiutato quelli tunisini ad esempio perché insicuri. Ecco, si tratta di una questione quindi politica, come per le manifestazioni al confine serbo-ungherese di qualche mese fa, vi ho fatto vedere in vari video. Questi sono eventi mediatici da spendere per fini quindi ideologici. L'accoglienza deve rimanere anche oggi in vetrina come una priorità per i governi europei e per i cittadini europei. Ora vi voglio parlare attraverso il giornale di quello che succede in Italia. Gli sbarchi e l'ira dei sindaci, qui ora può esplodere tutto. Dopo gli sbarchi della scorsa settimana un gruppo di 12 sindaci di Eracusano avvertono il governo. La paura della malattia, le limitazioni alle libertà personali, la crisi economica stanno alimentando una crescente rabbia sociale, tutto vero. Nonostante il decreto con cui il governo ha disposto la chiusura dei porti, gli sbarchi sulle coste siciliane non si fermano. Quindi non c'è nessun decreto che tenga. Prima i 100 migranti approdati a Pozzallo nel giorno di Pasqua, poi i 77 a Portopalo, in provincia di Siracusa, in 150 a bordo della Lancurti o NG tedesca CI, stanno aspettando di poter essere trasferiti su una nave dove passeranno due settimane in quarantena. Un'operazione che secondo alcune ricostruzioni giornalistiche potrebbe costare al governo italiano e quindi ai contribuenti italiani un milione di euro. Ecco, io spero di avervi fatto una panoramica il più completa possibile di quello che succede in Europa con l'immigrazione, argomento tralasciato da tantissimi media, soprattutto i mainstream. Se volete lasciate un mi piace, iscrivetevi al mio canale, aiutatemi con una donazione volontaria. Alla prossima, arrivederci. vi salato.